Questa sera vi canterò in un cantico, su richiesta del fratello Pietro. Veramente lo ringraziamo per come noi siamo qui, per come in questi giorni siamo veramente gioiosi di aver incertato la tenda evangelistica più a Pagliareggia per andare in secondo anno. Nonostante magari ci sono sempre un po' di sacrifici, di turni, poi tutte le cose che una tenda evangelistica richiede, però noi veramente siamo gioiosi perché sentiamo la presenza di Dio e il nostro unico scopo è quello di parlare di Lui. Il cantico che canteremo si intitola Chi ha bisogno del Signore? Veramente io questo cantico lo sento profondamente nel mio cuore perché veramente dice Chi ha bisogno del Signore? Chi ha bisogno di Gesù? Chi ha il proprio cuore rotto? Veramente ci sono una serie di domande dove poi porta tutto ad un unico scopo, ovvero chi ha bisogno veramente di tutte queste cose, chi è nell'angoscia può andare solamente a Gesù, colui che può veramente colmare quel vuoto. E poi dice se i pensieri ti opprimono la mente, se la strada è in ansia testa per finire, su invoca il Signore, egli ti ascolta. E come abbiamo ascoltato dalla testimonianza, veramente solamente andando ai piedi del Signore, con fiducia che egli ci ascolta, veramente vedremo riuscire a ciò che Dio ci ha promesso. Il Signore è sovratto. Amen. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Viva il Signore. 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 Chi ha bisogno del Signore. Signore, che ha bisogno di Gesù, che ha il proprio cuore rotto, Signore, che ha bisogno di Gesù, 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 che ha il proprio cuore rotto, e il Signore non morisce, che ha bisogno di Gesù. Gesù, che ha bisogno di Gesù, che ha bisogno di Gesù. Gesù, che ha bisogno di 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 Gesù, che ha il proprio cuore rotto, che ha bisogno di Gesù, che ha bisogno di Gesù, che ha bisogno di Gesù, Gesù, che ha bisogno di Gesù. Chi ha il proprio cuore rotto, il Signore non morisce, che ha bisogno di Gesù, che ha bisogno di Gesù, che ha bisogno di Gesù. Alleluia! Alleluia! Alleluia a Dio! Grazie, Signore! Gloria a Suo nome! Alleluia! Gloria a Dio!